Rifugiarsi nelle Nazioni Unite per salvarsi. Questo veramente ha le orecchie soprattutto di quelli che hanno vissuto e hanno letto, studiato il libro in cui, vi ricorderete, insomma, tutti quanti lo sapete, la faccenda delle Nazioni Unite e la bestia selvaggia, da quei tempi sono passati in molto inchiostro sulle rotative e soprattutto siamo veramente ben lontani da quei tempi, perché addirittura dovete sapere che è stato pubblicato dalla Torre di Guardia nella sezione video del loro sito web, come sempre sapete che vi porto materiale della Torre di Guardia stesso. E quindi è un video in cui, cioè, dopo aver per 70 anni diffamato le Nazioni Unite come la bestia scarlata dell'Apocalisse di rivelazione, ora fanno video promozionali dell'ONU. Cioè, dice, ma questa frate Pinocchio ne sta dicendo un'altra delle sue. Dunque, no Antonio, no carissimi, questa è la realtà. Allora, che cos'è l'UNHCR? È l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. È un programma dell'ONU delle Nazioni Unite che fornisce campi profughi nelle parti del mondo colpite da conflitti. E ben venga. Come fanno le persone a venire a conoscenza di questa iniziativa? Dalle organizzazioni non governative che promuovono, attraverso le loro operazioni, i programmi e le iniziative appunto patrocinati dalle Nazioni Unite. Come? Attraverso dei video promozionali che vengono proiettati a tutti i loro membri. O potrei parlare di Save the Children, o per parlare di Medici Senza Frontiere, o meglio, Medici Senza Frontiere potrei parlare dei programmi appunto di questi dell'ONU. Ok? Un'organizzazione non governativa come appunto è di fatto stata la Torre di Guardia per dieci anni, registrata all'ONU. Allora, qual è il momento migliore per proiettare questi video sul sito gv.org promozionali a tutti i membri? È l'ultima convention del 2023. In cui si vede un gruppo di rifugiati testimoni di Geva che fugge nel più vicino campo profughi delle Nazioni Unite. Questo, lo scrivente dell'articolo, dice è stato il più grande scandalo del 2023 perché l'ultima volta... Vabbè, andiamo avanti. Non posso leggervi tutto perché, come sapete, TikTok mi consente solamente dieci minuti al massimo. Basterebbe, giusto per rinfrescare la memoria, no? Questa è la rappresentazione appunto della bestia selvaggia identificata con l'ONU che sembra che abbia delle attività nudevoli, degli intenti nudevoli. In realtà l'ONU, scriveva appunto nel 83, nel 81, scusate, in realtà l'ONU disonora Dio affermando di fare ciò che secondo lui solo il suo regno potrà realizzare perché in effetti l'Ottore di Guardia diceva che solo nell'organizzazione di Geva c'è la salvezza. Eh, per la salvezza bisogna rivolgersi all'organizzazione di Geva. Allora, come pensi che si sentirebbe Gesù se demonizzi le Nazioni Unite come un'organizzazione e identifichi con la bestia scarlata dell'Apocalisse e poi crei dei video per il congresso testimoni di Geva destinato ad essere proiettato e visto da 8,5 milioni di testimoni di Geva dove in questi video tu inviti proprio a rifugiarti in questa organizzazione nell'ONU per salvarti. Eh, non lo so come può non essere colto questo stridore. Alla faccia del Carlo di Geva che va avanti, ma qui va a zizzare questo Carlo. E vi ricordo che le varie congregazioni all'epoca, dopo l'uscita del famoso articolo del giornalista in cui di fatto fece emergere alla luce, no? L'appartenenza per dieci anni, cioè gli stessi anni in cui dei papà o dell'oro come bestia selvaggia segretamente, perché nessuno lo sapeva, per dieci anni ne ha fatto parte. Questo è già di per sé una contraddizione enorme. Ma soprattutto poi ha dato da bere ancora una volta a fumare negli occhi dicendo che eravamo iscritti per poter accedere alla biblioteca. Innanzitutto l'iscrizione era da rinnovare anno per anno. E poi voglio dire, è veramente ridicola, ridicola, ridicola la spiegazione che hanno dato perché se voi andate nel sito dell'ONU, c'è la spiegazione ufficiale e la verità vera. Insomma, se vi potete credere, è stato uno dei più grandi operazioni imbarazzanti, contraddizioni imbarazzanti in cui è caduta la torre di guardia, questo qui, questo fatto dell'ONU. Per diversi anziani fu la goccia che fece traboccare il vaso per cui abbandonavano la torre di guardia. Poi è chiaro, se ti va bene che questa organizzazione deve essere per forza l'unica scelta da Geova, eccetera, eccetera, è chiaro che ti va andare bene tutto. Però questa, di cui forse molti non si sono accorti, ve la faccio notare perché, ripeto, sponsorizza, sponsorizza l'ONU. Si è passato da bestia selvaggia a sponsorizzata addirittura, dicendo, se vuoi salvarti, come rifugiato, eccetera, eccetera, la salvezza è nell'ONU.